Grazie ragazzi di Fermentum, cominciamo questo secondo video dedicato sempre allo stile Pilsnet e come avevamo detto in chiusura del video precedente, ci spostiamo dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, andiamo negli Stati Uniti, passiamo dalla Miteleuropa agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti all'inizio del XIX secolo erano un paese dove si consumava birra, soprattutto ale di stampo britannico, ma la maggior parte dei consumi di alcolici erano dedicati ai distillati, quindi ad esempio whisky e rum. A metà del XIX secolo ci fu un grande fenomeno di inurbamento, quindi di spostamento di gran parte della popolazione dalle aree rurali alle aree cittadine e un grande aumento dell'industrializzazione delle città. Sempre a metà del XIX secolo ci furono grandi masse di popolazione che dalla Miteleuropa, quindi dall'area tedesca, austriaca e cecoslovacca, si spostarono e andarono nel nuovo continente. Questo fu reso possibile dal fatto che dalla metà degli anni 30, dell'Ottocento, i viaggi transatlantici su navi a vapore divennero sempre più brevi e più frequenti. In città come Milwaukee o Cincinnati oppure anche St. Louis si crearono delle grandi concentrazioni di immigrati e a metà dell'Ottocento, in particolare dopo il 1848, la maggior parte di questi immigrati erano proprio tedeschi. Ovviamente gli immigrati tedeschi portarono con loro le tradizioni della loro patria d'origine e una di queste tradizioni, fortemente radicata, era la produzione di birra. Che tipo di birra portarono gli immigrati tedeschi negli Stati Uniti? Portarono birra a bassa fermentazione, birra lager. Storicamente si fa risalire a John Wagner, birraio attivo a Filadelfia, nel 1840, la prima produzione di birra lager negli Stati Uniti d'America. In realtà nel corso degli anni 40 ci furono molti altri produttori e se noi andiamo a vedere i cognomi di questi produttori, praticamente tutti hanno origini germaniche. Per esempio Engel e Wolf, sempre a Filadelfia, negli anni 40, oppure Adam Lemp a St. Louis, attivo dal 1842. Erano tutti immigrati oppure figli di immigrati di origine germanica. Accanto quindi a questa sorta di pacifica invasione ci fu un cambiamento nei modi di consumare birra negli Stati Uniti. Nel senso che i consumi di birra gradualmente iniziarono ad aumentare, spinti proprio da queste comunità di immigrati europei. Accanto ai tedeschi per esempio c'erano anche moltissimi irlandesi. altra, come dire, popolazione che tradizionalmente dedicava molta attenzione alla produzione di birra. Gli Stati Uniti furono la prima area in cui venne prodotta birra a bassa fermentazione al di fuori dell'area mittel europea. Nelle città statunitensi si fiorirono veramente a migliaia, decine di migliaia, i saloon in cui prevalentemente si consumavano liquori, si consumavano distillati, ma con l'aumento della popolazione di origine tedesca iniziarono a diffondersi anche alcune tipologie di pubblici esercizi, di locali in cui era possibile consumare birra alla maniera tedesca. E quindi iniziarono a nascere dei locali che si rifacevano in qualche modo alla cultura mittel europea. Comparvero i primi birgarten, uno su tutti lo Schlitzpark a Milwaukee, che era un enorme birgarten. Fino agli anni 50 del XIX secolo, fondamentalmente le birre Lager prodotte negli Stati Uniti furono birre ambrate, oscure, prodotte per decozione, prodotte alla vecchia maniera bavarese, vecchia maniera tra virgolette. Le vendite di questa tipologia di birra erano fortemente localizzate, si concentravano soprattutto nelle aree in cui era più alta la presenza appunto di popolazione di origine germanica, tedesca, e soprattutto la birra era venduta sfusa, era venduta in barile. Le bottiglie erano ancora abbastanza rare, le bottiglie in vetro non erano molto diffuse, si diffonderanno soltanto in seguito. Un primo, tra virgolette, ostacolo a cui i birrai statunitensi o di origine europea immigrati negli Stati Uniti dovettero far fronte fu la diversità delle materie prime che ritrovarono su territorio americano. In particolare le varietà di lupolo erano diverse, e anche quando venivano coltivate varietà europee, queste varietà differivano poi nella resa rispetto agli originali coltivati in Europa. Qui apriamo e chiudiamo subito una parentesi, ancora nell'Ottocento la principale area di produzione del lupolo non era la West Coast come al giorno d'oggi, ma era la East Coast statunitense. Chiudiamo la parentesi. L'altra materia prima, differente, era l'orzo ovviamente. Negli Stati Uniti era molto diffuso l'orzo esastico, che era più ricco di proteine ed enzimi rispetto all'orzo distico che si utilizzava in Europa. Conseguenza dell'impiego di malto d'orzo prodotto a partire da orzo esastico, era quindi una birra che risultava meno limpida e meno stabile. Per far fronte a questi problemi, diciamo, i birrai si ingegnarono e a partire dagli anni Sessanta e dell'Ottocento, nelle loro birre a bassa fermentazione, iniziarono ad aggiungere dei succedani. In particolare mais e riso serviva ad apportare fondamentalmente degli zuccheri che fossero fermentabili e il fatto di utilizzare orzo esastico forniva una quantità sufficiente di enzimi per il processo di sacrificazione. Il risultato era quindi una birra più asciutta, che aveva meno corpo e che quindi era più rinfrescante, in inglese diremmo crisp, crispy, più fragrante in bocca e quindi anche più piacevole per il pubblico locale dell'epoca. Ancora negli anni Settanta i principali birrifici attivi negli Stati Uniti producevano però birre all malt, cioè birre 100% malto d'orzo. Per esempio la famosissima Hellgate Brewery di George Eret e la Best Brewing Company ancora all'inizio degli anni Settanta producevano appunto birre alla vecchia maniera continentale. Gradualmente però i produttori iniziarono a introdurre appunto mais e riso soprattutto e alla fine del XIX secolo la percentuale di succedani si attestò intorno al 30%. La Neuser Busch scelse di utilizzare il riso che all'epoca era più costoso del mais perché gli dava una birra più limpida, più stabile, con una schiuma più abbondante, più persistente. E proprio collegandoci ad A Neuser Busch, il grande produttore di St. Louis, riusciamo a ricollegarci al discorso sullo stile Pilsner. La storia di questo birrificio comincia nel 1852 quando Georg Schneider costruì appunto una fabbrica per produrre birra a St. Louis. Fallì nel 1860 e l'impianto venne rilevato da alcuni creditori tra cui c'era Eberhard A Neuser. Nel 1864 Adolfus Busch entrò in società con Eberhard A Neuser e gradualmente lo rimpiazzò fino a diventare l'unico proprietario. Negli anni 70 Neuser Busch lanciò sul mercato la St. Louis Lager che era una Pilsner in stile boemo. Quindi qui vediamo proprio il collegamento tra lo stile Pilsner nato in Europa ormai quasi 30 anni prima che viene portato poi negli Stati Uniti e viene portato lì ad opera di birrai o dinastie di birrai e di imprenditori che hanno origini mite europee. I cognomi che abbiamo appena citato Schneider, A Neuser, Busch sono tutti cognomi di origine tedesca. Dopodiché da questo punto in poi lo stile Pilsner originario boemo inizia ad essere reinterpretato da questi nuovi produttori, da questi nuovi attori sul panorama brassicolo e inizia a divergere. Nel 1876 ci fu un altro evento importante che collega lo stile Pilsner agli Stati Uniti e che quindi prelude alla diffusione globale dello stile Pilsner. A Neuser Busch iniziò a produrre su licenza di Karl Conrad che aveva il diritto esclusivo di vendita una lager in stile boemo che chiamò Budweiser. Era una lager che usava una piccola percentuale di riso usava orzo esastico statunitense ma anche orzo distico di origine boema l'upolosaz e un lievito proveniente proprio dalla Bohemia. Questa birra è ancora prodotta tutt'oggi ed è diffusa globalmente è cambiata abbastanza rispetto alla versione ottocentesca ma fu fondamentalmente la birra che lanciò uno stile denominato American Lager che abbiamo visto quindi deriva a sua volta dalle Pilsner cieche, dalle Pilsner boeme. Il successo di questa Budweiser fu travolgente tanto che si stima che tra il 1876 e il 1882 ne furono vendute 20 milioni di bottiglie una cifra che all'epoca era significativa. Finalmente nel 1883 la Neuser Busch acquisì direttamente il marchio Budweiser che quindi divenne di sua proprietà. Dopodiché anche negli Stati Uniti assistiamo a una serie di appropriazioni, di innovazioni tecnologiche da parte dei grandi imprenditori del settore della birra. Un processo analogo a quello che c'era stato in Europa alcuni anni prima che qui viene addirittura amplificato. Già a partire dagli anni 70 alla raccolta di ghiaccio naturale che serviva per maturare la birra a bassa fermentazione si affiancò la produzione industriale di ghiaccio. Dal 1882 ad esempio la Neuser Busch non utilizzò più ghiaccio ma utilizzò una sorta di sistema di climatizzazione con aria fredda per tutti i suoi depositi. Dagli anni 80 iniziarono a diffondersi la pastorizzazione, la filtrazione e poi la carbonazione forzata della birra. Tutti questi processi accorciarono i tempi di maturazione delle birre a bassa fermentazione dato che per rendere la birra limpida non servivano più appunto lunghe maturazioni in cantine sotterranee riempite di ghiaccio naturale come era stato nei decenni precedenti ma bastava investire in innovazione tecnologica nei propri impianti. Ci fu un aumento nei volumi di vendita il prodotto evidentemente incontrò i gusti del pubblico dell'epoca iniziò anche una produzione di massa di bottiglie di vetro stampata e iniziarono ad esserci fenomeni di integrazione verticale tra i produttori cioè i grandi produttori del settore birra iniziarono a costituire oppure a inglobare aziende che coprivano tutta la loro filiera produttiva quindi da aziende agricole che coltivavano orzo e lupolo a malterie a produttori di bottiglie produttori di carri ferroviari produttori di macchine per la refrigerazione eccetera eccetera crearono depositi in varie parti del paese le dimensioni degli Stati Uniti sono enormi quindi era necessario creare una rete di distribuzione da zero sfruttarono per esempio per primi i carri refrigerati per portare la birra da un capo all'altro del paese si iniziò quindi a notare una sorta di concentrazione perché c'erano alcuni birrifici che incominciavano a diventare sempre più grandi i proprietari di questi birrifici vennero chiamati in gergo beer barons i baroni della birra proprio perché controllavano il mercato della birra e la maggior parte di questi birr barons aveva origini mitte europee, germaniche, tedesche ci fu una grande diffusione quindi di birra lager di birra lager chiara pastorizzata in bottiglia che derivava dalle pilsner originali e che poi pian piano aveva iniziato a differenziarsi con la produzione sul suolo statunitense i tempi di maturazione di queste birre per esempio vennero ridotti canonicamente a tre settimane rispetto ai mesi che erano impiegati nel 1842 a Pilsen nasce proprio un settore industriale della birra tecnologicamente all'avanguardia che cresce sempre di più come altrettanto di pari passo cresce il consumo di birre lager queste lager chiare derivate dalle pilsner europee e adattate dagli imprenditori sul suolo statunitense sono differenti quindi dalle pils originali sia dalle pils boheme che dalle pils tedesche la Brewer's Association per esempio ha codificato questo stile chiamandolo American Style Pilsner nelle intenzioni della Brewer's Association questo stile vuole rappresentare le lager tipiche del periodo pre-proibizionismo quindi delle lager che utilizzano fino al 25% di succedani siano essi mais o riso il colore di queste American Style Pilsner va tra il paglierino e il dorato l'apparenza dovrebbe essere limpida non dovrebbe esserci turbidità freddo il flavor e l'aroma di malto devono avere un'intensità da medio-bassa a media mentre il flavor e l'aroma di luppolo hanno un'intensità da media ad alta e tuttavia presentano caratteristiche dovute a lupoli nobili i cosiddetti lupoli nobili quindi di derivazione ancora europea non deve esserci ovviamente presenza di DMS di esteri o di di acetile quindi un profilo fermentativo pulito che si differenzia molto dalle Pils boeme per esempio secondo la Brewer's Association il corpo dovrebbe andare da medio a medio-basso e il finale dovrebbe essere pulito e crisp cioè fragante per fare un raffronto sulle unità d'amaro rispetto a quanto detto nel video precedente la Brewer's Association stima un range degli ibu tra 25 e 40 ritornando al discorso storico che stavamo facendo in precedenza possiamo notare come l'influenza culturale tedesca nel mondo della birra statunitense sia andata crescendo fino almeno alla prima guerra mondiale in seguito c'è stato un periodo di minore fortuna cioè la prima guerra mondiale qui ha seguito una contrazione ovviamente nei consumi di birra e soprattutto il proibizionismo durato dal 1920 al 1933 hanno portato un grosso cambiamento nel mondo e nel mercato della birra statunitense durante gli anni del proibizionismo era vietato produrre, commerciare, importare e distribuire bevande alcoliche era consentita la produzione esclusivamente di quella che veniva chiamata near beer cioè quasi birra traducendolo proprio a braccio cioè una specie di birra che aveva un contenuto alcolico dello 0.5 per cento ovviamente moltissimi birrifici chiusero i battenti si stima che nel 1914 ci fossero 1300 birrifici attivi negli Stati Uniti nel 1934 l'anno dopo la fine del proibizionismo il numero si era praticamente dimezzato e avrebbe continuato poi a diminuire fino a dopo la seconda guerra mondiale gli imprenditori che avevano le capacità economiche e strutturali per sopravvivere sopravvissero appunto al proibizionismo spesso riconvertendo le proprie produzioni e producendo ghiaccio, producendo lievito, producendo estratti di malto o diversificando la produzione in altri settori ma la maggior parte dei birrifici era destinato a fare una brutta fine la seconda guerra mondiale non fece altro che aumentare ancora di più i problemi per i piccoli produttori di birra statunitensi e fondamentalmente dopo la seconda guerra mondiale si assistette a un minimo storico nel numero dei produttori attivi sul suolo degli Stati Uniti che si contavano veramente in poche decine a partire dal secondo dopoguerra in particolare dagli anni 50 ci fu un ulteriore cambiamento nei modi di consumo della birra degli Stati Uniti con la diffusione della grande distribuzione e di prodotti omogenizzati e standardizzati dal punto di vista produttivo aumentarono anche i consumi casalinghi consumi casalinghi spinti dalla diffusione dei frigoriferi domestici spinti dall'advertising fatto sui nuovi media come ad esempio le televisioni negli anni 60 l'80% della birra venduta negli Stati Uniti era ormai confezionata in bottiglia o lattina e dagli anni 70 iniziarono le sponsorizzazioni sportive da parte dei birrifici più facoltosi che potevano permetterselo Mentre ormai queste birre che nascevano in origine come delle nipotine, delle pilsner portate negli Stati Uniti da birrai immigrati di origine mitereuropea erano ormai diventate altra cosa un'evoluzione tecnologica molto spinta come ad esempio la diffusione di tank pressurizzati oppure la tecnica del high gravity brewing oppure il multi plant brewing e l'utilizzo di antiossidanti stabilizzanti era funzionale a creare prodotti che fossero sempre uguali a se stessi e che avessero anche volendo sempre meno personalità in modo da piacere a una fetta di mercato più grande sempre più grande sempre maggiore aumentò anche la percentuale di succedanei utilizzati nelle in queste birre lager e si sfiorò al 40 per cento mentre contemporaneamente diminuì l'impiego di lupolo e l'amaro dopo i primi pionieri alla metà degli anni sessanta ad esempio fritz meitag del birrificio anchor di san francisco è uno sviluppo avvenuto soprattutto a partire dall'inizio degli anni ottanta prese piede il movimento craft il movimento del dei birrifici e micro birrifici artigianali il numero di birrifici attivi sul suolo degli stati uniti aumentò costantemente a partire da quella da quel periodo e nel 2020 la bruce association ha censito oltre 8.800 birrifici attivi tra industriali craft tap room e brew pub un numero significativamente elevato il movimento craft ha adottato a sua volta lo stile pilsner e la stessa bruce association ha codificato il contemporary american style pilsner cioè le pilsner fatte dai birrifici craft fondamentalmente una birra che ricade nello stile contemporary american style pilsner è una pils che può avere una una ricetta composta al 100 per cento da marco d'orzo ma può avere anche fino al 25 per cento dei succedani tipicamente mai sorriso inclusi nella ricetta le birri che rientrano in questa categoria si differenziano dalle pre prevision style lager soprattutto per il fatto di avere un aroma di lupolo più spiccato e un amaro più evidente il profilo fermentativo è sempre pulito quindi dms esteri di acetile vanno evitati il malto ha una un flavor e un aroma da medio basso a medio la grossa differenza risiede soprattutto nei lupoli che possono essere di varietà sia europea sia americana e devono mostrarsi in modo evidente sia in aroma che nel flavor sempre per dare un parametro di confronto con gli altri tre stili che abbiamo visto in precedenza gli ibu stimati della reverse association sono tra i 25 e 50 chiudiamo questo video parlando di uno stile che non è ancora riconosciuto ufficialmente come tale parliamo di pils l'italiana di italian style pilsner nel 2010 venne pianificato l'invio di una domanda per il riconoscimento dello stile al beer judge certification program il tratto distintivo dello stile venne identificato nel dry hopping da effettuare con varietà mite europee quindi tipicamente tedesche o cieche gli esempi commerciali all'epoca non mancavano uno su tutti la tipo pils del birrificio italiano ma anche la via emilia del birrificio del ducato la magut del birrificio lambrate o la grigna del birrificio lariano tuttavia i parametri produttivi vennero ritenuti troppo variabili per codificare uno stile a sé stante e il tutto si concluse con un nulla di fatto pur non essendo quindi uno stile ufficialmente riconosciuto le pils all'italiana esistono e sul mercato ne possiamo trovare vari esempi tra l'altro negli ultimi anni questi esempi non si riducono soltanto al mercato della birra artigianale italiana ma sono diffusi un po in tutto il mondo è noto ad esempio che la tipo pils del birrificio italiano abbia ispirato la pivo pils di firestone walker ed è noto che alcuni birrifici come oxbow che produce la luppolo o fort point birco di che produce la sfizio si siano proprio ispirati alle pils italiane per questi loro prodotti bene questo secondo video è concluso abbiamo terminato questa lunga carrellata sullo stile pils ci sarebbero ancora tantissime cose da dire e da approfondire per gli approfondimenti vi rimandiamo sempre al link qui sotto in cui trovate la bibliografia speriamo che questi due video siano stati di vostro interesse e vi abbiano incuriosito su uno stile che è molto diffuso ma che spesso passo un po sottotraccia e che a me piace invece moltissimo e vi invitiamo a commentare il video con le vostre riflessioni i vostri pensieri ringrazio ancora i ragazzi di fermentum e vi do appuntamento al prossimo video ringrazio ancora i ragazzi di menti세�